Roma incontra Protagonisti e fatti della grande attualità Un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, bentornati a Roma incontra Ci avete fatto caso? Il bollettino della congiuntura economica ci segnala che la ripresa c'è Supera le attese e sta ancora migliorando Nel paese però non la si percepisce Non incide sulla psicologia collettiva Tanto che siamo depressi come quando incombeva la recessione E infatti i consumi rimangono tirati e gli investimenti centelinati Sapete che cos'è che fa la differenza tra l'economia reale E quella che possiamo chiamare l'economia percepita? La politica Da un lato gli italiani non credono che una politica così sgangherata Possa davvero fatto crescere il PIL E fanno bene a pensarlo Un recente studio ha rivelato che l'unica vera spinta È arrivata dalla politica monetaria espansiva della BCE Senza la quale quest'anno invece che registrare un incremento Della ricchezza di un punto e mezzo circa Forse anche di più Ci ritroveremmo in recessione a meno 0,3% E per averne conferma basta guardare L'andamento strutturale delle variabili economiche Per esempio l'Istat ci ha appena fatto sapere Che nel ventegno che farà tra il 1995 e il 2016 La produttività del lavoro è salita di appena tre decimi di punto percentuale È il più basso incremento in Europa Oppure si prende all'occupazione È scesa pochino la disoccupazione Ma il livello degli occupati sul totale della popolazione attiva Rimane di una decina di punti più basso della media europea E addirittura di una ventina rispetto alla Germania Insomma un disastro Sul fronte del mercato poi la politica è percepita Non solo come un fattore di freno Ma anche e soprattutto di rischio Pensate all'attacco che qualcuno ha creduto bene Di sferrare a Mario Draghi Presidente italiano della BCE Per il suo precedente ruolo di governatore della Banca d'Italia Materiale organico nel ventilatore Che rischia di sporcare chi nonostante i tedeschi Imponendo i tassi a zero e massicci acquisti di titoli di Stato Ci ha regalato la ripresa e ha spento il fuoco dello spread Un autolesionismo che certo non aiuta a crescere la già scarsa credibilità italiana E che tiene lontani gli investitori internazionali Guardate che quelli che vi sto facendo sono ragionamenti di buon senso Non richiedono il Nobel in economia Eppure dai nostri leader non c'è verso di ascoltarli Ma a proposito di leader Il nostro primo ospite è un giornalista che ne ha visti molti Di leader in tutto il mondo Ha scritto per Sperling e Kuffer L'ultima estate di Diana È Antonio Caprarica Allora Allora Abbiamo qui l'uomo che sussurra alla regina Considerata Elisabetta Quindi l'uomo che sussurra alla regina Ha scritto un libro sulla vicenda di Diana Che vent'anni fa Nella maledetta notte del 31 agosto del 97 Perse la vita in un incidente stradale a Parigi Però vorrei partire dall'attualità Oggi la regina Elisabetta e il principe Filippo Festeggiano 70 anni di matrimonio Sono sposati il 20 novembre del 47 Sono praticamente immortali Sono immortali Probabilmente lo sapevano già il giorno che si sono sposati Devo dire In qualche misura Lo dice la foto che li raffigura Intanto già quel giorno erano un simbolo di rinascita Quelle nozze furono delle nozze incredibili in Inghilterra Perché eravamo a due anni dalla fine della guerra E l'Inghilterra che aveva vinto la guerra Era ancora un paese dove era tutto razionato Che essero a Clement Attlee Che all'epoca era il primo ministro Di proclamare quel giorno Giorno di festa nazionale La sua risposta fu Non se ne parla nemmeno In un paese dove sono razionate perfino le patate Figuriamoci se possiamo fare un giorno di festa Cosa di cui ogni tanto dovremmo ricordarci anche noi Che non abbiamo le patate razionate Però non sarebbe male ricordarsene Eppure ci fu una tale pressione popolare Una tale spinta attorno a questo matrimonio Che alla fine poi la festa ci scappò fuori lo stesso Perché? Perché Elisabetta ha avuto questa fortuna Se vuoi nella sua vita Di rappresentare sin dall'inizio Con la sua giovanizia Una fantastica arma di propaganda Per l'Inghilterra e per i Wins Senti ma è durato il matrimonio 70 anni? Perché? Il matrimonio è durato 70 anni Perché si basa su quella sostanza preziosissima Che è la tolleranza Riconosciuta dal principe Che ha avuto lei con lui E lui ha avuto bisogno di averla con lei? Beh diciamo che lei ha mostrato moltissima tolleranza Ma lui anche Aspetta perché sai come sono andate le cose? Secondo le storie di Corte Il giorno che lei è salita al trono Nel 1952 È stata così sopraffatta Dal senso del dovere Di responsabilità verso lo Stato Che ha sbarrato al congel Le porte della camera da letto Per la lunga durata di 7 anni Adesso a meno che tu non sia un monaco buddista Non dico un frate Trappista Trappista Perché da noi la cosa Ma i buddisti sono più Aderiscono di più al principio della castità Se tu non lo sei Insomma in qualche modo Questo povero uomo avrà dovuto fare Avrà dovuto fare Del resto la faccenda dei 7 anni È confermata dal fatto Che il principe Andrea È arrivato esattamente All'ospirare di quei 7 anni Quindi è probabile che sia vero Lui certamente non è stato Un esempio luminoso di fedeltà Lei ha ricambiato Beh secondo alcuni La prova che almeno un cornicello Ci sarebbe scappato Sarebbe nella evidente somiglianza Del principe Andrea Con il suo maestro dei cavalli Cioè il responsabile delle sue stalle Il conte di Carnarvon Adesso come è noto Da Lady Chatterley in poi C'è sempre stata questa mesallianza Quanto ti piace Parliamoci chiaro Insomma il responsabile delle stalle Era pur tuttavia Sempre il conte di Carnarvon Insomma ecco Non un groom Non un groom delle stalle Senti ma Vent'anni sono passati E ahimè anche la nostra Gioventù se n'è andata Ma in questi vent'anni La vicenda di Lady Di Che cosa Quale incidenza ha avuto Sugli inglesi Sulla Gran Bretagna Ma guarda Proprio dalla prospettiva Dei vent'anni Che sono trascorsi Si apprezza meglio Il peso che ha avuto L'esistenza di Lady Di Diana E la sua presenza Nella società britannica Diciamoci la verità L'esistenza o la morte Tutte e due le cose Perché la morte credo Che sia stata La morte è stata Il momento dell'epifania Se vuoi La tua osservazione è giusta Però la verità È che la vita di Diana Non ci ha rivelato Quanto lei sia stata Influente rispetto al cambio La sua morte sì Lei Diciamo Le cose che cercava Di ottenere In vita Come una Una monarchia Attenzione Non democratizzata E non una monarchia scandinava Con la pacca sulle spalle La monarchia in bicicletta Quello che voleva Era una monarchia Più aperta All'ascolto Dei sudditi Meno distante Meno formale Se vuoi Voleva una monarchia Che in qualche modo Seguisse più da vicino I mutamenti Della società Ad esempio Voleva educare E l'ha fatto I suoi figli Fuori dalla gabbia dorata Del palazzo Tutte queste cose Però Lei da viva Non è riuscita In realtà Ad ottenerle Dalla casa regnante La sua morte Ha rivelato Ai Windsor Che o cambiavano Adattandosi Al cambiare dei tempi O erano spacciati Per la regina È stato un trauma La richiesta Di quei giorni Quando le chiedevano La bandiera a mezzasta Su Buckingham Palace Senza sapere Perché la gente Se l'era ormai dimenticato Che non è possibile Per lo standardo reale Sventolare a mezzasta Perché Il re c'è sempre Morto un re Vive il re C'è subito il successivo Quindi quello standardo Non può essere messo a mezzasta Allora che cosa si sono inventati Una nuova tradizione Cosa che spesso fanno i Windsor A questo punto Su suggerimento di Blair Non lo standardo reale Ma la bandiera britannica È stata issata Sulla reggia Ed è stata messa A mezzasta Quindi come vedete Hanno dovuto In qualche modo Tenere conto Della pressione Dell'opinione pubblica Adeguarsi Alla richiesta Della opinione pubblica Perché hanno capito Che altrimenti Ma in quella circostanza La regina Diciamo Ha agito Solo e soltanto Per Tenere fermi Diciamo I valori istituzionali Che lei incarna I principi Che lei incarna O c'era anche Un rapporto Tra loro Che No guarda Non c'era animosità Almeno questo È il mio convincimento Convincimento Perché sono formato Ascoltando tante testimoni Parlando con tante persone Leggendo tanto Dei documenti Anche lasciati da Diana Ad esempio Cito nel libro Una lettera Che Diana ha lasciato Indirizzata Al suo famoso Maggiordomo Che ne aveva soprannominato Dice lui The Rock La Rocha Burrell In cui lei dice Vorrei tanto Riabbracciare mia suocera Questo dopo che c'era stata Già la rottura Vorrei abbracciare mia suocera A dirle quanto capisco I suoi torbamenti Rispetto a un paese Che sembra non essere più In sintonia con la monarchia Però tu Diana non era repubblicana C'era un figlio Che doveva diventare re Senti ma Sai che ci sono due partiti C'è uno che dice Lei ha voluto fare la principessa Quindi tieniti gli obblighi Quindi se non Se non ho tempo Per gli obblighi Sei dalla parte del torto E altri che dicevano No Lei comunque ha diritto alla libertà Tu tra i due partiti No guarda Io te lo Ti ho detto più volte Credo Io appartenevo al partito Carlista Che diceva Beh insomma appunto Si è sposato il principe Faccia la principessa Poi ero anche molto Carlista Diciamo per una forma Di solidarietà Verso gli ultimi Verso i più deboli Visto che è lui Carlo E Diana Li metti vicini Già Carlo Passava per uno stupido Agli occhi del mondo intero Essendosi lasciato scappare Una donna come quella Gliel'aveva scritto anche il padre No A Diana Dicendo non capisco Come quello stupido Di mio figlio Possa preferirti Quel cavallo di Camilla Ecco adesso Istituzionale dello Stato No Però è lì c'è il valore Rivoluzionario Dell'atteggiamento di Diana Perché sai La storia della Questo tu l'hai recuperato Esatto E questo diciamo La riflessione A cui mi sono dedicato In questo libro È stato un passaggio Se vuoi diverso È un recupero Del valore Delle sue posizioni Rispetto a quella Che era la storia Della monarchia Dove i re Sono sempre stati Autorizzati A essere Fior di mascazzone A dimostrazione Tra l'altro Che essere Una sciupa femmine Non impedisce Di essere un buono statista Tranne che nel caso italiano A noi ampiamente noto Almeno questa è La mia opinione Diciamo Ma Insomma I re in Inghilterra Sono sempre stati Come dice Gio Bernard Shaw Insomma L'Inghilterra Ha sempre avuto milioni Di fruttivendoli per bene Mai un monarca per bene Tutto questo Era normalmente riconosciuto Era assolutamente banale Scontato Anche nel caso di Filippo Nessuno si è messo mai A contargli Però Nel momento in cui Una principessa Dice Beh un attimo Perché se mio marito Ha un'amante storica Bene Io non ce li ho storici E però Ho i miei amanti Ho diritto Anch'io Di avere i miei amanti Non solo lo fa Ma lo dice E va in televisione E va in televisione a dirlo Guardate che la famosa intervista Panorama del 95 Ebbe qualcosa come 25 milioni di spettatori Su 55 milioni di abitanti Dell'isola Cioè metà del paese Stava lì incollata Davanti a televisione Sentendo lei Una finale Del campionato mondiale di calcio Però con più soddisfazione In questo caso Beh di questi tempi sicuramente Almeno per noi Anche per loro Anche per loro Sì anche per loro Senti ma In tutto questo Quindi in questi vent'anni La monarchia La corona È uscita meglio O peggio Diciamo Meglio grazie alla morte di Diana La morte di Diana È stato un evento Tragico Molto rischioso Per la monarchia Perché davvero Sono stati i giorni In cui il regno di Elisabetta Non dico che ha vacillato Ma insomma Ha dato segni di stanchezza Qualche crema Ma la lezione è servita Quella sovrana Non so se ve lo ricordate Ma penso di sì Almeno quelli Insomma che non sono nati Proprio nei giorni Nella fine di Diana Quella sovrana Che al passaggio del feretro China il capo Davanti alla bara di Diana È il segno plastico Della vecchia monarchia Che si inchina All'obbligo del mutamento E Elisabetta Ne ha fatto tesoro Quando va in televisione Cinque giorni dopo La morte di Diana A dire Vi parlo come vostra sovrana E soprattutto Come nonna Detto dalla signora Che aveva aspettato 50 anni Prima di farsi chiamare Mamma in pubblico Dal suo primogenito Carlo ha detto Per la prima volta Mamma Elisabetta Pubblicamente Quando ha compiuto 50 anni Nel 98 Lei si è presentata Ai sudditi Dicendo Vi parlo come nonna Quindi era esattamente Quello che Diana In qualche modo Chiedeva Cioè una maggiore empatia Una capacità Di rapportarsi Alle emozioni Della gente Quindi quella Tragedia Ha costretto I Windsor A cambiare Il loro atteggiamento Di fondo E ha Poi vedete Il cambiamento Della monarchia È evidentissimo Nella faccia Nei comportamenti Di quei due ragazzi Che sono i figli di Diana Cioè loro stanno Dando voce Il corpo A una monarchia Completamente diversa Da quella Che è simbolizzata Nel ritratto Di Elisabetta E di Filippo Senti In tutto questo Quindi il fatto Che Che la Che il marchio Corona Britannica S.P.A. Valga sempre di più 75 miliardi di euro Con tutto quello Che ne consegue In termini di indotto Eccetera Questo significa Che in qualche modo È persino Accresciuto Anche Con un misuratore Così In termini borsistici Certamente è cresciuto Anche perché La redditività È elevatissima Perché quello È il valore Come dire Dell'impresa Ma è stato calcolato Che la monarchia Procura Al turismo britannico Un'aggiunta Annua Di valore Di almeno 7-800 milioni Di sterline Quando poi ci sono I matrimoni È una festa vera Ma non per i reali Per i ristoratori L'indotto vale 2 miliardi È una cosa incredibile Il matrimonio ultimo L'ultimo matrimonio Anche questo Come sapete C'è la storia Dei matrimoni reali La storia Dei matrimoni reali È una delle Tradizioni inventate Perché non è vero Che c'era la tradizione Di sposarsi A un Westminster Però è utile I primi a sposarsi Lì sono stati I genitori Di Elisabetta Dopo sei secoli Sono stati I genitori Di Elisabetta Naturalmente È utilissima Pensa che Il matrimonio Di Kate e William Ha portato A Londra In quei tre giorni Qualcosa come 500 milioni Di sterline In più Per albergatori E ristoratori E quell'anno Il 2011 Il turismo inglese Ha segnato Un surplus Di 2 miliardi E mezzo Di sterline È dovuto esclusivamente Al marchio reale Quindi il fenomeno Che in Europa Ha definito Dell'antipolitica Non esiste In Inghilterra Rispetto Alla corona Salva la monarchia Salva solamente La monarchia Per il resto Siamo tutti Sulla stessa barca Gli inglesi Hanno votato Per Farage E ognuno di voi È libero Di stabilire Chi sia L'italiano Che più somiglia A Farage Senti ma Se la corona È la stampella dorata Della politica La copre Le consente Tutto sommato Di sopravvivere Meno peggio Diciamo Che altrove Tu che hai vissuto In tutto il mondo Hai girato il mondo Sei appena Reduce della Cambogia Perché Cos'è Sfiga Che siamo Nella fase storica In cui Non c'è un leader Da nessuna parte Che abbia L'autorevolezza Le capacità Di quelli Che sono venuti Dopo la guerra Per esempio La verità È che i grandi leader Escono da società Fortemente coese E compatte E le nostre società In questi ultimi anni Cioè la crisi Si sono sfarinate Un po' per effetto Della grande crisi Cominciata nel 2007 Un po' per effetto Della incapacità Manifestata Dalle classi dirigenti Di ascoltare Le voci Che venivano Dalla crisi Adesso noi Non possiamo Io sono un grande Sostenitore Della globalizzazione Sono un grande Sostenitore Della apertura Delle frontiere E via raccontando Ma non possiamo Però nascondere Il fatto O comunque Essere sordi Rispetto Alla crescente Diseguaglianza sociale Quando tu vedi Che il famoso Indice di Gini Quello come lo chiamano Gli economisti Quello che segnala La forbice Tra i più ricchi E i più poveri All'interno della società Continua Ad allargarsi Giorno dopo giorno E vuol dire Che il problema vero E che la crisi Che stiamo attraversando È quella Delle classi medie Che sono state E che sono Storicamente Tradizionalmente Il pilastro fondante Le fondamenta Delle democrazie parlamentari Se non hai più Quel referente sociale È inevitabile Che la democrazia Della rappresentanza Si sfarini E vengano meno I leader di riferimento A quel punto Emergono I venditori di paure E noi viviamo In un paese In cui i venditori Di paure Stanno facendo fortuna In America Hanno piazzato Un presidente In Inghilterra Sono riusciti A imporre La Brexit Della rottura Dei legami Con l'Unione Europea Insomma In Italia Vediamo 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 Senti Dedichiamo Gli ultimi Cinque minuti Che abbiamo Ancora Alla vicenda Di Diana C'è del mistero Ancora Intorno alla sua morte Tutto quello Che si è ventilato La famiglia Di Al-Fayed Sono balle O c'è qualcosa Che dobbiamo ancora Scoprire Intorno a quella vicenda Guarda Sono balle Cioè La risposta Secca E sono balle Naturalmente Questa risposta Io non la darò mai Perché se no siamo rovinati Perché naturalmente Questa storia Dà da vivere Ancora a moltissime famiglie Di giornalisti E di scrittori Quindi Continueremo a scrivere Ancora moltissimo Sul mistero di Diana In realtà Per essere sinceri Il mistero della morte Non c'è Nel senso che fu Un banalissimo incidente Naturalmente Siamo sempre Reluttanti Ad accettare l'idea Che super uomini E super donne Possano morire In questo modo Ma accade Ed è quello Che è accaduto Però Nel libro Questa storia Non l'ho affrontata Perché se volete Forse è un'altra storia Forse è un mistero C'è Perché la questione Era quella Del figlio Della Diana Diciamo Della principessa Incinta E perché accenna questo Perché questo Forse spiega anche La ragione Di questa stranissima Vacanza Che Diana Accetta di passare Con una famiglia I Fayed Che sono Praticamente Dei lebrosi sociali Cioè Delle persone Con cui Nessuna Esponente Dell'establishment Britannico Prenderebbe Nemmeno Il tè E che non vengono Mai di regola Invitati Nelle case Per bene Anche se sono I proprietari di Arroz Non importa L'hanno venduto Anche Benino Realizzando alcuni Soldini Però non importa Perché non erano Solo i proprietari Di Arroz Erano anche Venditori di armi E probabilmente Ai paesi sbagliati Se no Gli inglesi Non avrebbero fatto Tante storie Però siccome I paesi erano sbagliati Insomma Non vengono mai Invitati Nei posti giusti Allora com'è Che Diana decide Di andare a passare Lì Questa vacanza Di luglio Questo è il mio sospetto Che lo fosse Non di Dodi Come racconta Il padre di Dodi Ma che lo fosse Dell'unico uomo Di cui si era Veramente innamorata In quegli anni In quei mesi finali Della sua esistenza Questo medico pakistano Con cui aveva trascorso Anche a letto Buona parte Degli ultimi due anni E con il quale Però proprio Pochi giorni prima Di partire Per Saint-Tropez Ashraf Khan E che però Pochi giorni prima Di partire Per Saint-Tropez Insomma Rompe Rompe con lei O lei rompe con lui Questo non è chiaro Perché devo dire Che l'unico gentiluomo Di tutta questa storia È un signore pakistano Per il resto I gentiluomini inglesi Sono stati bravissimi Nell'applicare Il principio Il principio dei tabloidi Della stampa popolare Inglese Il famoso principio Kiss and tell Bacia e racconta Naturalmente A un prezzo cospicuo Il famoso maggiore Hewitt Sospettato Di una paternità Importante Ma infondato Secondo me Il maggiore Hewitt Ha venduto La sua storia D'amore con Diana Per 400 mila sterline Per dire Qualcun altro Si è accontentato Un po' di meno L'unico che non ha detto Parola È stato Asnak Khan Ha parlato solo con la polizia Perché la polizia Gliel'ha chiesto Però naturalmente Su questo argomento Non ha detto verbo Il sospetto Di una Diana Davvero incinta Ma Del suo Vero amore E che magari Avesse trovato Un Diciamo Un San Giuseppe Nel povero Dodi È un sospetto Che ogni tanto Potrebbe Potrebbe Riaffiorare Senti dopo Diana Kate Tu dici come libro Tu dici come libro Il prossimo libro No il prossimo libro Visto che allora siamo qui Anzi l'anticipo In porto avanti Con la pubblicità Il prossimo libro Si chiama Royal Baby Royal Baby Naturalmente Non è solamente Non è dedicato al figlio Anche perché francamente Avrei poco da scrivere Su un bambino Di cui non so ancora nulla O bambina Però è dedicato invece Ai bambini reali Ed è direi uno studio Di come si educa Un bimbo A diventare principe Costringendolo A non essere più uomo Ecco questa è la storia A grosso modo Mi occupo di tutti Quei principi Che sono stati Trasformati in teste coronate A costo Della perdita Della loro fondamentale Caratteristica di umanità È una storia Se vuoi un po' triste Ma per quelli Che sono principi Magari anche allegra Ma Kate reciterà Un ruolo E che ruolo Nel prossimo futuro Non quello formale Non quello formale No no Kate sarà il pivò Della famiglia reale Senza Elisabetta Lo è già adesso Diciamoci la verità Questi Windsor Senza donne Sono un disastro No ma questa è la verità Cioè voi pensate Che insomma Sui circa 200 anni Di storia della monarchia Grosso modo I tre quarti Sono stati occupati Dalle donne Da Vittoria E da Elisabetta E meno male Perché gli uomini Sono stati veramente Allora Berti Edoardo VII E penso che Forse ve l'ho detto Un'altra volta Ma sapete Lui è passato alla storia Secondo me Più che altro Per la famosa Sedia dell'amore Che si può vedere Al museo Dell'erotismo a Pigal Perché lui era una palla Era molto più abbondante Di noi Adesso va bene Ma poi io ho perso Soprattutto Siccome però Non aveva perso Il gusto Di quella attività E si era fatto Però non sapeva più Come farla E quindi si era fatto Costruire Una specie di sedia Di bronzo dorato Un po' sedia ginecologica Un po' sedia gestatoria Su cui praticava la copula In quali posizioni Non me lo chiedete Perché adesso sarebbe indiscreto Francamente Però questo È passato alla storia Anche per questo Edoardo Ottavo Che è quello Che si è innamorato Della famosa Simpson Non ne parliamo Insomma Quindi Come capite Senza le donne La storia dei Windsor Si sarebbe forse Già conclusa Con un'abdicazione Grazie ad Antonio Caprarica Di essere stato con noi Grazie a voi Leggete il suo libro Grazie Diamo una mano al picco La pubblicità A tra poco Bentornati a Roma Incontro Nella stagione Nella stagione In cui È stato Ministro Della giustizia Venne affrontato Lo stragismo Della mafia Di Totorina Totorina è appena morto E allora abbiamo chiesto Di venircene a parlare Di Rina Di quel periodo E di oggi Claudio Martelli Ciao Allora il capo dei capi Ha 87 anni È morto in carcere Dove scontava 26 ergastoli Allora Tu che dici Di fronte Pace e l'anima sua Riposi in pace Perché a tutti Bisogna Dire così Oppure dici Come qualcuno dice Che sia dannato per sempre Non ho questa cultura Né nulla Né delle maledizioni Bravo Né io anch'io Né delle benedizioni In qualche modo È giusta la voce Così? Sì Devo granchiare È finita La sua esistenza Tu che hai provato Quando hai sentito Questa notizia? Francamente niente Niente Non ho particolato Nessuna emozione Particolare Un'emozione L'ho provata Quando venne arrestato Allora sì Mi sembrava Di che si fosse compiuto Intanto un dovere generale Ed anche il mio compito Particolare Che era stato Quello di Dopo la morte di Falcone Di reagire Mettere in campo Tutte le risorse Dello Stato Per fargliela pagare In un'intervista Alla CNN Lo dissi In inglese Che è un'espressione Molto più Brutale E diretta Dimostreremo Che uccidendo Falcone La mafia Ha fatto il peggiore affare Della sua vita E lo abbiamo fatto Lo abbiamo fatto Perché Si è riusciti Finalmente A mettere All'opera Quelle riforme Legislative Su un tipo Di processo speciale Che deve Accompagnare I delitti Di mafia Sì Ma perché Deve essere speciale Perché un conto È processare Una criminale Comune Occasionale Uno che compie Un delitto Una volta Nella vita Un conto diverso È processare Una organizzazione Criminale Che è in condizione Sempre di intimidire I testimoni Di intimidire I giudici Di comandare Persino Dall'interno Del carcere Perché un capo Mafioso In carcere Carcere a Palermo A Catania Soprattutto È in condizione Innanzitutto Di piegare Gli altri detenuti Come e perché Ma è molto semplice Perché quando poi A colloqui All'epoca Poi i colloqui Erano quasi liberi Anche per i boss Mafiosi Prima che io Introducessi Il 41 bis È in condizione Di fargliela pagare Attraverso La punizione Dei familiari Dunque Un'organizzazione Mafiosa Non può essere Trattata Come un comune Delinquente Deve essere Trattata Con un rigore Particolare Con un grande Scrupolo Per preservare Le prove Di quello Che hanno fatto Scusa se ti interrompo Qualcuno dice Che è esagerato Però farlo Post mortem O in prossimità Della morte Aver negato Ai figli Di poter essere Nel momento In cui stava morendo Malato Ormai Straterminale La chiesa Che gli rifiuta I riti Eccetera Secondo te Beh La chiesa Risponde per sé Per carità Posso dire Commentare Dall'esterno Che ho molto Apprezzato Prima Giovanni Paolo II Quando Maledisse I mafiosi A Palermo E vergoglio Quando li ha esclusi Dai sacramenti Così si dice E quanto allo Stato Ma che cosa Doveva fare Non si fanno Sconti Cosa diversa Era quando È stato In condizioni Molto gravi Di salute Beh lì Doveva essere Naturalmente Assicurata La massima Assistenza Sanitaria E questo È stata Fatta Senti Toglimi la curiosità Perché io Non sono particolarmente Esperto Delle vicende Siciliane Però Ho sempre avuto La sensazione Di trovarmi di fronte A un uomo Modesto Sotto tutti i punti Di vista Lo vedevi Così Esteticamente Lo sentivi Parlare Per quel poco Che si è sentito Come faceva uno così A essere il capo Dei capi Non è che ci siamo Sbagliati O se invece È vero Come è possibile Che una struttura Che comunque Ha una complessità Organizzativa Di gestione Dei redditi Che produce Eccetera Si è in mano A Lo metto così Questa è esattamente La domanda Che io feci a Falcone Quando lo conobbi Nell'87 Fa piacere Scusi ma Come è possibile Che il capo Della più potente Organizzazione Criminale del mondo All'epoca poi Di Rina Si vedevano Soltanto alcune Foto segnaletiche Di vent'anni prima Quindi E aveva quest'aria Appunto Da contadinotto Appena arrivato In città Quasi inoffensivo Insomma O comunque Di un criminale Laro di Polli Insomma Beh non era assolutamente Così Falcone con molta calma Cominciò a spiegarmi Chi era Totò Riina E cos'era Quella che Loro stessi Chiamano La cosa nostra Adesso ho visto In qualche intercettazione Riina No per dire Quanto si può credere A queste intercettazioni Captate Tra Totò Riina E qualche altro Mafioso Detenuto in caccia E passeggiano Guardano Per vedere Se sono le telecamere Che riprendono E a quel punto Dicono qualcosa Che gli interessa Che venga risaputo E questo è un altro aspetto Io non ho mai capito C'è qualche falla Nell'applicazione Del 41 bis Perché evidentemente Non è consentito Che i mafiosi Lancino messaggi Addirittura Attraverso i telegiornali Come è accaduto In quella circostanza Va beh La novità di Riina È questa Che reintroduce La mafia è sempre stata Un'associazione criminale Lui ci ha aggiunto Un di più di ferocia Che deriva Sicuramente Dalla sua formazione Giovanile Perché lui viene Assoldato E addestrato Come killer Lui fa tutta Scala L'organizzazione Partendo dal basso Dai compiti E esecutivi Più pericolosi Quelli di assassinare La gente Rivali di altre cosche Poliziotti Traditori Veri o presunti E diventa Capo Dell'ala militare Quell'ala militare O esercito mafioso Che Falcone Calcolava In 5.000 soldati Soldati Perché si chiamavano Soldati loro In realtà Erano picciotti I giovanotti Che menavano le mani O le bombe O le revolverate O i colpi di Kalashnikov Capo della parte militare Come spesso succede Anche nella storia politica Che cosa fa? Chi controlla la forza La usa E la usa Non soltanto all'esterno Ma la usa anche all'interno Dell'organizzazione Liquida Liquida i vertici Della cosa nostra Palermitana Corleone È un grosso centro Della provincia Fino a quel momento La cosa nostra Era stata governata Dai palermitani Dei bontade Badalamenti Buscetta E lui O li liquida Li costringe All'esilio Come nel caso Di Buscetta Ma distruggendo Le famiglie Perché non si accontentava Di uccidere Il rivale Nell'attesa Magari Gli uccideva I fratelli I cognati I nipoti I figli Con questa Ferocia Conquista Il controllo Della cosa nostra Palermitana Si allea E sottomette Anche le altre Cosche siciliani Catanesi Trapanesi Agrigentine Verticalizza L'organizzazione La struttura In modo semplice In ogni villaggio In ogni quartiere C'è un mandamento Che ha un suo capo I capi Dei mandamento Eleggono la commissione Provinciale Le commissioni Provinciali Eleggono La commissione Che poi Venne definita In linguaggio simbolico La cupola Ma Linguaggio Che ha un capo Che ha un capo Che era lui Lui Era un primo Isinterpolis No Manco persone Vole anche Un suo vice capo Che era Provenzano E avevano Inventato Questo sistema Che non partecipavano mai Tutte e due Alle riunioni Della cupola Perché Perché nel caso In cui si fosse Presa una decisione Che non piaceva Allora quello Che era assente Poseva sempre dire Eh ma io non c'ero Questa cosa Io non sono d'accordo Bisogna che ne riparliamo Ho capito Se poi qualcuno Era d'accordo Ci pensava Alla militare Senti Si dice Che Che lui Abbia introdotto Una fase Storicamente Nuova Dell'atteggiamento Della mafia Che fino a quel momento Era Eh Fino al momento Dell'uccisione Di Falcone La strage Che ha ucciso Falcone E poi Borsellino Tendenzialmente Ad occupare La politica A A esserne contigua A influenzarla A infiltrarla Lì invece inizia Una fase di stragismo Per cui Come dire La politica Allo Stato Sono i nemici E noi li abbattiamo E lui Secondo te Che ha pensato Di far fare Questo salto Diciamo Sì ma il salto C'era già stato Prima del 92 Nelle ricostruzioni Diciamo Meno attente Che vengono fatte Anche in questo periodo Si dimentica Che c'è un precedente Alle stragi Del 92 Sono le stragi D'inizio anni 80 Quelle che liquidano La vecchia mafia Ma che assassinano Anche dalla chiesa Piola Torre Pier Santi Mattarella Quindi non è che Prima scherzassero Non è così E in realtà Mentre la prima Fase di stragi Mafiose Parte contro Dei bersagli Simbolici Dalla chiesa Era appena arrivato A Palermo Si poteva temere Che avrebbe fatto qualcosa Ma L'hanno Ucciso Non era ancora un nemico No Non era operativo Ancora Non so neanche Se fosse preso Possesso dell'ufficio Era andato a fare Un giro in macchina Con la giovane moglie In prudenza Naturalmente grave Ed è stato Assassinato Brutalmente Diverso il caso Di Piola Torre Che aveva fatto Una legge importante Quella appunto Sui reati associativi Perché allora C'erano giudici Ma non si può mica Processare la mafia Possiamo processare Al massimo Qualche mafioso Se fa un delitto Ma cos'è sta mafia Facendo questo gesto Proprio una cosa Impalpabile Non si processano I fenomeni Si processano Gli uomini In carne ed ossa Portateceli Provate le prove Dei loro delitti E noi li condanneremo Beh non è così Perché torno al discorso Di prima Sono un'associazione Mafiose E invece vanno Perseguite Proprio perché Organizzano il crimine Non è che ne compiano In modo occasionale Quindi la seconda Fase Invece è giustificata Perché lì era in campo Già una strategia Dello Stato Contro Cosa Nostra Intanto C'era stato Il grande risultato Giudiziario Del maxiprocesso In cui erano stati Affiliati Una buona parte Degli ergastoli Sulla testa Di Riina Provenzano E tutti gli altri E poi Cosa decisiva Era passata La definizione La ricostruzione Di che cos'era La Cosa Nostra Fatta da Falcone Una struttura Gerarchica Verticale Fondata Sulla forza Dell'intimidazione Della violenza Della distribuzione Di morte Come un'anonima Assassini Perché con la mafia Non hai che discuti Non paghi il pizzo La prima volta Ti tagliano le gomme Dell'auto Poi insisti A non pagarlo Ti bruciano il negozio E poi ti fanno sapere Che conoscono gli orari In cui va a scuola Vai a prendere il tuo figlio Insomma L'intimidazione La paura Si fonda Sulla esperienza Del dolore Della morte Che la mafia Distribuisce Distribuiva Realmente Se pensi Penso a quegli anni La mafia Faceva un fatturato Di migliaia Di miliardi Con il narcotraffico Altri con gli appalti pubblici Che In cui entrava Corrompendo Intimidendo Ma tutto questo Lo poteva fare Perché faceva Mille morti all'anno Mille morti all'anno Poi dice Cos'è cambiato Non ho letto male Nell'ultimo anno Sono stati due morti Forse riconducibili A una dinamica mafiosa In Sicilia Questo è cambiato Perché è stato sgominato L'esercito mafioso Si è partiti da lì Dal pericolo Incombente E imminente Che costituisce La forza Della mafia Il potere Di intimidire Di costringerti A fare anche Quello che non vuoi Senti Tu Non hai Fatto più politica Quindi non hai partecipato Alla seconda repubblica Come invece altri Sono esente Sei esente Secondo te Dal Dal Tuo Momento In cui Hai fatto Le scelte che hai fatto Il 41 bis Eccetera Lo Stato Avrebbe potuto E dovuto Fare altro Che non ha fatto O è sufficiente Attestarsi sulle scelte Di allora Tue E di quel periodo No per fortuna Non le ha contraddette Salvo una fase In cui Revocarono Per centinaia Di mafiosi Il 41 bis Quella che va Erroneamente Sotto il nome Di trattativa E che in realtà Fu una fase Di cedimento Dello Stato Non è che lo Stato Si è messo a trattare Come disse Il mio successore Il ministro Conso Volevamo Volevamo Mandare Un segnale Di disponibilità Parlaministro Da giustizia Il mio successore Volevamo Mandare Un segnale Di disponibilità All'ala Moderata Di Cosa Nostra Guidata Da Bernardo Provenzano Perché Finissero Le stragi Innanzitutto In quel momento Le stragi Non ce ne erano più state Dopo quella di Borsellino Erano passati Dieci mesi E viceversa Le stragi Ricominciano Dopo questo annuncio Perché quelli Capiscono Che come dice In una intercettazione Questa verace Dottorina E bisogna Dargli un altro Colpettino Hanno capito Che insistendo Con le stragi Qualcosa si otteneva Quella è la strada giusta Senti Secondo te Con la morte Di Riina Si volta Una pagina In questi anni Si è detto Che ormai La mafia siciliana Non era più Non aveva più La leadership Della criminalità Organizzata italiana Che ormai Diciamo Il pericolo maggiore Sta nell'Andrangheta Che è molto più forte Quindi E' già successo Qualcosa prima Della morte di Riina Succederà Adesso con la morte Di Riina Tu come la vedi Questa questione Del passaggio Del 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 narcotraffico Dalla mafia siciliana All'Andrangheta Calabrese Io Insieme ad altri Ho cominciato a parlarne Negli anni 90 Perché Già allora Era abbastanza Evidente Come si è avvenuto Questo passaggio Sarebbe interessante Capirlo Ma forse È materia Archeologica E l'archeologia Giudiziaria Secondo me Per amore del cielo Ne ho tutto il rispetto Però Non sempre aiuta A capire L'attualità Quello che sta succedendo Oggi Come è avvenuto Si può supporlo Ma sono congetture Nel momento di crisi Arrestatori Inarrestati Tutti i capi I mille latitanti Principali Della cosa nostra Però non finisce Il narcotraffico Qualcuno si offre O qualcuno viene raccomandato O i rottami Della cosa nostra Siciliana Passano il testimone E i loro capitali Passano il testimone Finanziano La crescita Esponenziale Della Andrangheta Calabrese Che poi Si scoprirà Una struttura diversa Molto più familistica Addirittura più impermeabile Di quella siciliana E ha questa capacità Di territorializzarsi Controlla Alcune aree Della Calabria Con mano ferrea Tuttora Io quando dico queste cose In qualche modo Mi vergogno Perché Dico ma com'è possibile Cioè Lo sappiamo E non facciamo nulla E hai tolto la domanda di bocca Allora io ho provato a farlo L'abbiamo fatto E abbiamo ottenuto Dei risultati Credo che anche Alcuni dei magistrati In campo Gratteri Mi sembra un eccellente magistrato Sicuramente Forse di Polizia Ma ci devono dire Che cosa D'altro lo Stato Il governo deve fare Perché pensare Di sconfiggere la mafia Soltanto con la magistratura E la polizia È un errore Ci vuole in campo Il governo Della Repubblica Ministro degli interni Ministro della giustizia Che insieme Con i magistrati E le forze di polizia Adottano tutti I provvedimenti Necessari E dotano Le forze di polizia Di tutti gli strumenti Necessari Legali Naturalmente Costituzionali Naturalmente Per debellare questo L'Andrangheta Ha questa caratteristica Di esportarsi all'estero Molto di più Si può dire Che anche la Cosa Nostra La Cosa Nostra Viveva tra la Sicilia E New York Chicago New Jersey Già negli anni Trenta Quaranta Cinquanta E fino A Totorina Ma è una cosa diversa Qui siamo proprio Di fronte A delle colonizzazioni Da parte Dell'Andrangheta Che penetra Nel tessuto economico Probabilmente Intervenendo su Imprese in difficoltà E facendo prestiti Magari le banche Non fanno Poi riscuote Poi riscuote Di più Le banche Naturalmente E via via Impadronendosene Arrivando a gestirle E credo Che abbiano Loro sì Una generazione Di Rampolli Andranghetisti Che hanno Qualche competenza E esperienza In campo economico Aziendale E amministrativo Per gestire I ricavi Esatto Senti E in campagna Stai guardando La nuova serie Di Gomorra Che è uscita adesso Che effetto Ho visto Le due nuove puntate Esteticamente O No così In generale Una serie Molto bella Tutta quanta Naturalmente Molto Efficace Molto ben fatta Non è che rischiamo Di spettacolarizzare Beh questo rischio C'è sempre Io Mi arrabbiai La prima volta Poi ho smesso Mio figlio Che fa cinema Mi disse Papà Ma insomma Ti una calmata Perché mi arrabbiai Vedendo il padrino È veramente straordinario Questo Concerto di grandissimi attori Marlon Brando Al Pacino E chi più ne ha Più ne metta E poi era talmente Sembrava quasi nobile L'impresa Di questi Italo-americani A New York Che prima si ribellano Alla prepotenza Del poliziotto irlandese E poi Cercano Gradatamente Di inserirsi Nel tessuto Economico Legale Per questo Che vuole fare Michael Corleone Il figlio giovane Al Pacino Nel film Quindi c'è sempre Il rischio Di spettacolarizzare La mafia Quando se ne parla Ma L'arte Non è educativa È rappresentativa Rappresenta la realtà Cerca una La verità Cerca una sua verità Che si fa fatica A dire in altre maniere Per farlo Deve mettersi anche Dalla parte Del male Questa risposta Te l'aveva da tuo figlio Dile la verità No Quest'ultima no Pensavo Te l'aveva da tua figlia No Lo sapevo Ma non l'avevo applicato A caso Senti In mezzo minuto Non posso Non farti una domanda Sulla situazione politica Ma Che fine facciamo Che effetto ti fa La sinistra In cui hai militato Per tanto tempo Vederla così Mezzo minuto Io cerco di Mezzo minuto Sì Allora Questa domanda Me l'hai fatta ogni volta Che ci siamo visti E ogni volta Avevi questo tono Piuttosto funebre Come se dovessimo I fatti non mi hanno smettito No assolutamente Assolutamente Però io preferisco Essere smentito Dai fatti Non spandere Ottimismo generico Ho visto che Purtroppo Milano Non ha vinto Questa gara Per avere l'agenzia Del farmaco L'ha vinta Amsterdam Però ha perso Per sorteggio Essendo arrivata Alla pari Con le votazioni E in fondo Essere alla pari Di una capitale Sprenda città Come Amsterdam Non è una cosa Offensiva Se in politica Si adottasse Qualche volta Io lo vorrei Anche per la nomina Dei membri Del consiglio super Della magistratura Il sorteggio Del resto Quando le democrazie Sono bloccate Gli antichi Ricorrevano al sorteggio No? Quando sono paralizzate Quindi invece Nella elezione A marzo Facciamo un bel sorteggio No 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 Se certe nomine Certe scelte Si facessero Per sorteggio Si Come dire Si sdrammatizzerebbe Un po' La nostra lotta politica Che è complicata Dal fatto che adesso Ci sono tre poli Tre forze Più o meno Equivalenti Sembra essere in testa Il centrodestra E questo naturalmente L'assicura Quelli del centrodestra E che cosa Io ne ricavo Ne ricavo Che dopo cinque anni In cui si è parlato Solo Praticamente Del PD E di Grillo E vincerà Grillo E vincerà il PD E vincerà Si sono accorti Che intanto Quelli che meno parlavano Era ancora vivo Che Berlusconi Era ancora vivo E Come si diceva Una volta E lotta insieme E lotta insieme Senti allora Facciamo così Torna dopo Subito dopo Le elezioni Subito prima E parliamo solo di quello Va bene Adesso ti ringraziamo Di averci parlato Grazie a voi Di queste cose Grazie a Claudio Martelli Di essere stato con noi Diamo una mano Al picco La pubblicità Tra poco Bentornati a Roma In Contra Avete presente O quantomeno avete sentito Parlare della famosa Particella di Dio Beh Lui è Professore Università di Milano Ma soprattutto Un fisico Del CERN Di Ginevra E ci ha messo Le mani sopra E adesso ce lo facciamo spiegare Lucio Rossi Benvenuto Buonasera Grazie Docente di fisica a Milano Ma soprattutto Come vi dicevo Lavora al CERN Dal 2001 Dove ha diretto I superconduttori E i magneti Del progetto LHC Il più grande Strumento scientifico Che ha portato Alla scoperta Del bosone Di Igis E quindi Del famoso discorso Della particella Di Dio Partiamo dall'attualità Qualche giorno fa È stato scoperto Un nuovo pianeta In grado di ospitare La vita Lo hanno chiamato Ross 121B Allora Ross viene da Rossi Evidentemente E 128B Immagino che sia Il civico Dove lei abita Sì È il numero civico È il numero civico È il numero civico No È il nome del sole Attorno a cui ruota Il pianeta Ma che roba è? Beh Un pianeta Che offre Alcune possibilità Di vita Io non sono Un esperto di astrofisica Mi occupo d'altro Però offre Così dicono gli esperti Delle possibilità di vita Da lì a dire Che ci sia la vita Ne passa Che ci sia la vita Diciamo Evoluta Perché non conta A avere un batterio Un conto di avere Una lucertola Un serpente Cioè Un leone Adesso Diciamo Dopo il massimo grado È un'altra cosa Poi la vita cosciente Capisce È un'altra cosa Ma io La interpretavo È possibile Trasferire la nostra vita Questa la Beh Là mi sembra Che sia Undici anni Luce La distanza Quindi Trasferirci noi È un po' Dura Vabbè Ma con la lentezza Di mezzi pubblici italiani Italiani Specie Quelli Credo Qui a Roma Credo Solo per fare Il milanese No Trasferire la vita Non si sa Però ci sono Delle condizioni Ci sono delle condizioni Che permette Forse la vita elementare Appunto I batteri Forse ci sono Volevo farle vedere Che ho studiato Allora Un anno luce Equivale a 9.460 miliardi di chilometri Giusto? Non lo so Noi diremmo Anno luce È la lunghezza Che ci mette la luce Fa 300.000 km al secondo Moltiplichiamo Per un secondo Sarà sicuramente giusto Quindi Noi usiamo l'anno luce Un anno luce Un 11 Come lei usa il metro Non usiamo l'anno luce Voi Della setta Dei fisici Voi della setta Dei fisici Siamo una setta Siamo una chiesa Adesso un po' più nobile Senta Passiamo al progetto Di cui lei si occupa LHC Ad alta luminosità Che diavolo è? Sì È una nuova configurazione Dell'LHC Cos'è l'LHC? È Large Hadron Collider Cioè Il grande collisore adronico Gli adroni Sono le cose Di cui noi siamo fatti Sono i protoni Neutroni Siamo anche fatti Di elettroni Ma non portano massa Quindi tutta la nostra ciccia Siamo fatti di adroni Quindi sono le particelle fondamentali Il grasso cos'è? Eh sono gli adroni Ma adesso arriviamo Perché è colpa di X Che abbiamo la massa Quindi anche la nostra ciccia È colpa di X? Colpa di X Che spiega la massa Sì Comunque Può mandarla a quel paese Può mandarla a quel paese Per conto mio? No, no, perché? Perché? Perché è così bene È l'assegno del benessere Ah, vuol dire che Perché? Vuole mandarla a quel paese Comunque Un acceleratore di particelle Cosa facciamo? Accelera le particelle fondamentali Quindi andiamo a vedere Di cosa siamo fatti Noi siamo Noi siamo gli eterni bambini Quando si erano bambini Cosa si faceva? A una grande dannazione dei genitori Si rompendo l'orologio Il meccanismo La cosa per vedere Di cosa è fatto E noi siamo gli eterni bambini Che rompono, rompono, rompono Per andare a vedere Quello che c'è Nell'infinitamente piccolo E che avete trovato? Abbiamo trovato per esempio Noi sappiamo di cosa siamo fatti Nelle grandi edifici del mondo Come questo bellissimo palazzo Sta in piedi Che ci sono i mattoni E le forze che le tengono insieme Il cemento, la colla Noi sappiamo quali sono I mattoni fondamentali E le forze fondamentali La colla che tiene assieme A questi mattoni Mancava una cosa Questo qua lo si sa da parecchio tempo Mancava una cosa Il bosone di Higgs 50 anni fa Di più di 50 anni Alcuni scienziati Tra cui Higgs Non solo Higgs Poi possiamo dire Perché solo lui è diventato famoso Però hanno avuto un'idea Quando ancora i mattoni Non si conoscevano tutti Di cercare di capire Che qual era la parte fondante E Higgs e appunto altri due Braut e Englert E anzi altri tre Poi di cui non si ricorda mai il nome Eccetera Hanno avuto un'idea E pensi Da allora Ci ha voluto 20 anni Per capire che era l'idea giusta Cioè questi sono stati lì 20 anni a No Per 20 anni C'erano tanti in teoria Poi si è capito Che quella è giusta E negli ultimi 40 anni Che ho detto L'idea vecchia di 60 anni Negli ultimi 40 anni È partita la caccia grossa Tre acceleratori Sono stati fatti Grandi Imprese ciclopiche L'HC è la più grossa 27 km D'alta tecnologia Ma ne sono stati fatti Degli altri Per esempio 7 km Al Fermilab Al Grande Lab Il Cern di Chicago Intitolato il nostro Fermi Peraltro Lo chiamiamo Lo chiamiamo semplicemente Fermilab Comunque Sono stati fatti tre acceleratori Per cercare di trovare Questo bosone E questa particella Non la si riusciva a trovare E noi con l'HC L'abbiamo trovata Una soddisfazione immensa Che ha premiato il duro lavoro Ma che insomma Va al di là del nostro duro lavoro Perché un risultato È un prodotto di qualcosa Anche un po' di inaspettato Io l'ho capito Lavorando con il mio povero papà Che era agricoltore Sono piacentino Prigio di Piacenza Un anno Grandine Non abbiamo avuto Alcun risultato E il mio papà Mi ha fatto capire Ecco vedi La terra è dura Bisogna per zappare Si fa fatica Eccetera Poi arriva la Grandine Senza il nostro sforzo Non c'è niente Dobbiamo sudare Senza il tuo sforzo Non c'è niente Però il raccolto È qualcosa in più C'è il tuo sforzo E c'è qualcosa d'altro Che è dato La realtà c'è Il bisogno di X Con tutto il nostro sforzo Poteva anche non esserci Siamo stati gratificati Da questo donno meraviglioso Ma adesso che lo sappiamo Beh sappiamo Perché abbiamo la massa Perché vedete Tutte queste particelle elementari La cosa che ci sorgiva Era Ma perché esiste la massa Che cos'è la massa Non riuscivamo a capire Perché particelle elementari I mattoni fondamentali Se sono fondamentali Dovrebbero essere più o meno Tutti uguali Chi più chi meno Eccetera Però insomma E invece Misteriosamente Apparivano diversissimi Diversissimi come massa Tra la particella Più leggera Quella dei neutrini Quella studiata da Fermi Da Majorano Eccetera E quella più pesante Il top quark Il quark top Lo chiamiamo top Perché sta sopra tutti È il più pesante C'è centomila miliardi di volte Differenza di massa E noi Ma perché c'è questa differenza Centomila miliardi Sì numeri Ma che ci suggrano Perché non sapevamo A che cosa era dovuto Il meccanismo della massa X ha avuto Quest'intuizione X e gli altri Ha avuto quest'intuizione E quest'intuizione Che è molto complessa Noi di fatti Preferiamo parlare Di meccanismo di X O di Brautangler X Si manifesta Attraverso una particella Che è la particella Avendola trovata Siamo sicuri Che c'è il meccanismo Per questo che è importante Sappiamo La ricaduta pratica Di tutto questo Per esempio La medicina Piuttosto che In altro Beh per adesso Non ce n'è Se non che l'innovazione Che abbiamo fatto Per arrivare lì Già la usa Ma pochi lo sanno A volte quando vado in giro A parlare Mi dicono Ma il web Cosa ci dice Il web L'hanno inventato I militari americani No I militari americani Hanno inventato internet Che sono le autostrade Ma il web Pochi se lo sanno È stato inventato il CERN Nel 1989 Perché Non è L'autostrade Non è internet È il modo giusto Di usare internet Tant'è vero Che ormai Noi nell'immaginario Lo facciamo coincidere Tu dici Navico su internet O sorpo su web È la stessa cosa Non è la stessa cosa Il web è un modo Di usare internet Quindi L'altra cosa Chi nelle nostre famiglie Non è una persona Che ha fatto la PET La PET La prima PET Che è un esame clinico Ormai È stata fatta al CERN Circa nel 1975 Dico circa Perché il CERN Ha quasi perso memoria Di questo Ne facciamo tante Però pensi Quando uno si cura Attraverso la PET Ebbè Il CERN Ha dato un contributo Fondamentale Quindi lei si immagina Che questa cosa Adesso produrrà Bisogna essere onesti Non lo so Quando fu scoperto L'elettrone Nel secolo Alla fine del 1800 Quindi da due secoli fa Nessuno si immaginava Che 60 anni dopo Sarebbe data l'elettronica Io non so Se i nostri figli O nipoti Un giorno Vivranno di bosotronica O di xtronica Non lo so Bisogna essere onesti E mica ha detto Fondarsi sì Può darsi di no Però l'innovazione Che ci ha portato La stiamo già usutilizzando Io e lei Senta Ma le macchine Che sono state inventate Per questa Sono di dimensioni enormi No? Sì certo 27 km di alta tecnologia Come il tunnel del Monte Bianco Due volte a me Ma è vero che all'interno Di LHC Si raggiunga La temperatura più bassa Di tutto l'universo Ho letto 271 gradi Meno 271 gradi Virgola 1 Per essere precisi Certo La temperatura più bassa Ma registrata sulla terra E meno 89 gradi Come l'avete prodotta Quella temperatura Si utilizza un fluido speciale Che si chiama Elio liquido E noi lo utilizziamo In una maniera speciale Che si chiama Elio superfluido Ed è bassissima Pensi L'universo Nella media Realizzerà questa temperatura Fra 10 miliardi di anni L'universo Che era una palla di fuoco All'inizio Espandendosi Si raffredda Come un gas Adesso siamo circa Una certa temperatura Quella temperatura La realizzarà in media Fra 10 miliardi di anni Ma ce n'ha un po' da prestarmi Che vorrei congelare Eh no 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 Non ce n'ho da prestarmi Perché per fare questo freddo Spendiamo tanta energia Cioè Perché bisogna lavorare Niente viene gratis Io ho da congelare Un sacco di roba Ma possiamo congelare Noi stessi Non lo so Non lo so Questo non lo so Tutti vediamo i film In cui si parla di congelamento Eccetera Non lo so Penso che La tecnologia del freddo Ha fatto grandi avanzamenti Non è il mio settore Penso che si potrà fare Un giorno Senta Ma il progetto Che sta lavorando adesso Cosa Che obiettivo ha Sì Quello è l'obiettivo Noi vediamo Il bosone di Higgs Ha chiuso un libro Con questo abbiamo chiuso Il nostro modello standard La nostra summa teologica Di San Tommaso Conosciamo Di che cosa siamo fatti Le leggi fondamentali Però incredibilmente Come sempre capita Una risposta Apre altre domande Ha chiuso un libro E sta aprendo Un nuovo libro Intanto a chi Come mai il bosone di Higgs Si dà la massa a se stesso E poi ci sono altre domande Che sono ancora lì La materia oscura L'energia oscura In poche parole Grazie a questa Nuova configurazione Della macchina Di cui sono I responsabili Che si chiama LHC Ad alta luminosità Speriamo di andare al di là Speriamo che Quello che abbiamo Inprevisto Perché si chiama alta luminosità Cos'è? Eh perché vede L'acceleratore Non è solo Un microscopio È una specie Di generatore di luce Noi vediamo In una maniera Con una luce Molto particolare Che è la luce Della meccanica quantistica Le particelle Sono come delle onde Vedi la luce Che mi illumini In questo momento È un'onda Più l'onda è fine Meglio vedo Meglio vedo I pipistrelli Che utilizzano Delle onde più lunghe Vedono meno bene di noi Noi possiamo gioire Delle immagini Ad alta risoluzione Come quelle Della televisione Se ci state guardando In altra definizione Grazie al fatto Che la luce Che usiamo È molto piccolo Il nostro occhio È un sensore molto fine Ebbene Nell'acceleratore Utiliamo una luce Molto più fine E come sempre Per vedere meglio Ci vuole più luce Alta luminosità Perché trucchiamo La macchina LHC In una maniera Mi lasci dire così Per cui Darà molta più luce Dieci volte più luce Immaginate Voi state vedendo La stanza Con una lampadina Da 50 watt E di colpo Accendete E viene una lampadina Da 500 watt Vedete molto meglio Se l'occhio È abituato Perché altrimenti Si rimane abbagliati A troppa luce Quindi noi Io mi occupo Della macchina Ma i nostri colleghi Fisici Dei rivelatori Si occupano Di fare Un miglioramento Molto importante Anche dei rivelatori Che sono i nostri occhi Che vedono Il risultato Delle collisioni Che noi prepariamo Quindi Pensi È sette anni Che il progetto è partito Finirà nel 2027 Io sarò Già andato in pensione Da lungo tempo Dal SER Qualcun altro Lo vedrà finito Ci vogliono 15 anni Pensi che macchina Ci sono voluti 20 anni 25 per farla E ci vogliono Tra i 15 e i 20 anni Per fare un upgrade Quindi sono Sono veramente Come le cattedrali Quelli che vedete qui a Roma L'ascolto con la bocca aperta Mi viene un po' di mal di testa Devo dirle No perché L'ascolto con la bocca aperta Perché Senta ma Perché è stata chiamata La particella di Dio E la chiesa La chiesa che reazione ha avuto A questa Oh zero Se vogliamo È un ottimo scoop editoriale Sai perché Dove viene il nome Leo Lederman Che è un premio Nobel Che ha avuto l'avventura Di conoscere Che è stato Era direttore del Fermi Quando ha passato Nobre per la fisica Nobre per la fisica Che è stato direttore del Fermi È stato uno dei grandi Propugnatori Di cercare di trovarla E appunto Il suo acceleratore Non l'ha trovata E ha scritto un libro Quando stava cominciando La costruzione dell'HC Ha scritto un libro Per spiegare Quanto era importante E la caccia A Bosone Dix È proprio Hunting for Dix Boson E lui voleva chiamarla The Goddard Particle La particella dannata Ma come sempre I giornalisti Sono molto più bravi Ognuno offre lei Fa il tuo mestese Dice Milano Anche se lei Vedo che con la lingua Mi sa che lei al CERN Fa la comunicazione Ah beh Certo Comunque Goddard Particle Gli hanno detto All'editore No no Goddard non va bene Perché qualcuno Si offende Chiamiamola Goddard Particle Tutti ne parleranno Io e lei Siamo qui a parlarne Ancora adesso Dopo vent'anni E per me non è offensivo Personalmente Né per chi è credente L'importante è capire Questo nome vuol dire Che è una particella importante Senta ma Fatto centro di quello Che conosciamo dell'universo Secondo lei Quanto c'è ancora di oscuro? Allora Tecnicamente Abbiamo ancora il 95% Da scoprire? Quindi in realtà Il Bosone Dix Spiega solo il 5% Che è il 5% Che è il più importante Spiega le cose Di cui noi siamo fatti Le stelle La luce Ma non spiega Il 95% Di un universo oscuro Tra materia oscura E energia oscura Il 95% Dell'universo è oscuro Ed è indagabile Sto 95% o no? Certo Come ogni realtà fisica È indagabile Certo Abbiamo il dovere Di conoscerla Ma non è anormale Quando dicevo prima Ogni risposta Apre una domanda I nostri padri Non sapevano Dell'universo oscuro Noi conosciamo Molto di più Dei nostri padri Eppure abbiamo Più domande di loro E capiamo che siamo Più ignoranti Ci spieghi meglio Cos'è sto universo oscuro Perché noi pensiamo Magari ad altre cose Sì uno pensa Dal lato oscuro Della forza Dar Fenere Eccetera No no O anche di peggio Lo chiamiamo oscuro È il segno Della nostra ignoranza Lei pensi Abbiamo dei segni Che c'è Però non sappiamo Che cos'è Non riusciamo a vederlo Non riusciamo a misurarlo Quindi lo chiamiamo oscuro Non riusciamo a vederlo Letteralmente Però è incredibile Non sappiamo che cos'è Non riusciamo a vederlo Eppure in qualche maniera Sappiamo una cosa Che c'è Non è incredibile Questo aspetto Della conoscenza Che ci chiama E ci attrae Non sappiamo che cos'è Ma ci attrae Come una persona Che abbiamo visto Ci attrae Pur non accorcendola ancora È lo stesso meccanismo Poi magari innamorandoci Ci mettiamo insieme Eccetera E la conosciamo A fondo È lo stesso La scienza È una forma di innamoramento Di corteggiamento Della natura Tra l'uomo Tra l'umanità E la natura Cerchiamo di conoscerla Per conoscerla Bisogna innamorarsi Letteralmente Cadere in amore E perderci del tempo E io sono convinto Che a materia oscura Un giorno sapremo Che cos'è Magari con l'Ai Luminosi Di LHC Il mio progetto Con l'LHC Ad altre unità Riusciremo a trovarle A illuminare Perché si vede di più Certo Illuminiamo più luce E quindi magari Il dettaglio Che prima ci sfuggiva Tacco Riusciamo a vederlo Senta Ma Gli italiani In tutto questo Che ruolo hanno Lei è qui È un italiano Naturalmente Ma insomma Abbiamo dei nomi Importanti Che abbiamo sentito fare Ma L'Italia Nel grande mondo Di chi progetta Di chi studia Queste cose Di chi fa il lavoro Suo Che peso ha Beh è un peso notevole Grazie alla scuola Uno può citare Il nome di Fermi Di Amaldi E eccetera Per arrivare a Rubia Zinchichi I grandi scienziati Certamente L'LHC Non ci sarebbe Senza Professor Rubia Lui l'ha voluto Eccezionalmente L'ha voluto In una maniera Fortissima Eccetera Pensi che A un certo momento Dei quattro Grandi esperimenti Al CERN Tutti e quattro Gli spoke person I portavoce Erano italiani Tra cui la nostra Fabiola Giarrotti Che oggi è la nostra Direttrice generale Ma c'erano anche Tonelli E altri due Campana E Giubellino Incredibile E questi sono eletti Democraticamente Nelle esperienze La macchina Diciamo così Perché il vertice È frutto di elezioni Degli esperimenti Della macchina No La macchina CERNATrice Dove lavoro io No Quella è fatta Dalla struttura È una struttura Non è una collaborazione Ma è una struttura Lì però Ad esempio Abbiamo avuto Il professor Maiani Direttore generale Il professor Rubia Quindi Abbiamo avuto Tra i primissimi Il primissimo responsabile Della macchina Nero italiano Si chiama Giorgio Brianti Quindi Italiano ha giocato Un ruolo importante Perché in questo settore L'Italia è investita In maniera costante Perché mi lasci dire Il fatto di investire In maniera costante E con un piano È importantissimo Senta Faccia conto Che io Sia un ragazzo Che si deve scrivere Un'università Mi spieghi Magari Mi spieghi Perché dovrei Intraprendere Gli studi di fisica Beh Perché la fisica È entusiasmante Mi dia un motivo forte Per cui dovrei Ah certo Perché la fisica È entusiasmante Sapere da dove veniamo Dove andiamo Un aspetto Del da dove veniamo E dove andiamo La scienza non risponde a tutto Ma risponde a una parte Molto importante L'aspetto fisico È fondamentale La fisica è un po' Alla scienza di base Perché si chiede Quali sono i meccanismi fondamentali Della natura E dell'universo Noi i nostri amici astrofisici Abbiamo la pretesa Di cercare di spiegare il mondo Quindi Di cercare di spiegare il mondo fisico Quindi capire la natura È un elemento fondamentale Come è altrettanto bellissimo Capire da dove viene la coscienza Sto mica dicendo Che le neuroscienze Sono di poco valore Ognuno a suo livello Però capisce Se non sappiamo i termini fondamentali Non potremmo capire cose Più complesse La fisica è un'avventura Senza fine Pensi che alla fine dell'Ottocento Lord Kelvin Grandissimo scienziato Aveva detto a suo nipote Che gli chiedeva No no Non studiare fisica Che abbiamo scoperto quasi tutto Ormai rimangono solo Le misure di precisione Poi ci fu meccanica quantistica Relatività di Einstein Tutto si aprì un mondo nuovo Quindi La conoscenza non avrà mai fine Quindi continuiamo a studiare È un entusiasmo Se tutti i professori fossero così Senta Ma la politica può fare qualcosa Dovrei fare qualcosa Oppure è meglio che non ci metta le mani Così non fa danno No La politica può fare molto Se dà gli indirizzi Che è quello che deve fare la politica La politica non Mi lasci di aspettare una cosa A favore della fisica in Italia Perché noi abbiamo un ente bellissimo L'INFN che si è sempre autogestito L'Istituto Centonale di Fisica Nucleare Di cui anch'io faccio parte Per andare al centro Si è sempre gestito da fisici E la politica ha sempre dato Delle ottime direttive E i finanziamenti adeguati La politica deve fare il suo mestiere Darle direttive E darle Anzi deve darle la politica Gli essenziati Non esiste il mondo di autogoverno Gli essenziati Però poi Non deve fare il micromanagement E piazzare le persone I politici A capo di qui o di là Questo non deve farlo Senta ma se Lucio Rossi Cosa avrebbe fatto Se non avesse fatto questo Lei ha delle passioni nascoste Sì Anche se non l'ho coltivata Il filosofo Ho avuto un grande professore Di filosofia a liceo Come un grande Anche una grande professore Di fisica E avrei fatto il filosofo La fisica e la filosofia Sono molto vicine E avrei fatto il filosofo Mi piace Mi piace capire Il perché delle cose La fisica da una visione La filosofia da un'altra Sono entrambe importanti Il professor Lucio Rossi È un grande Grazie di essere stato con noi Grazie 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 Diamo una mano al P Con la pubblicità Tra poco Bentornati Bentornati a Roma in Contra Da Stalin a Renzi Da Mussolini a Berlusconi Da Hitler a Grillo Storia Amori Errori È soli al comando Di Bruno Vespa Ciao 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 Allora Benvenuto al mitico Conduttore di Porta Porta In questa modesta Porticina No Benvenuto al mitico Roma in Contra No Questa è porticina Porticina Finestrina Finestrina Senti Sono molto contento Che tu sia qui a presentare Questi 28 ritratti Di leader 17 stranieri 11 italiani Un po' nel presente Un po' nel passato 26 più 12 16 più 12 16 più 12 Ah scusa Un po' del presente Un po' del passato Come mai hai fatto questa scelta Oddio Negli ultimi anni I tuoi libri Spesso sono stati anche Rivolti al passato Alla storia Beh intanto la storia Mi ha sempre affascinato E poi perché Mi sono affascinato Dagli errori Degli uomini Sono del comando Che quasi tutti Sono tanti Sì Quasi tutti Sempre Cadono Per un Delirio Di inipotenza O anche Quando non cadono Insomma Hanno dei rallentamenti Di carriera Forti Perché a un certo punto Non vedono Il gradino Gli uomini politici In genere I grandi Soprattutto Secondo me Hanno una Visione Molto più lunga Della Della mia Delle persone comuni Poi però Non si accorgono Di un gradino Che tutti quanti vediamo Sul quale loro Guardando il cielo Scivolano È l'effetto del potere? Sì Il potere è così Diciamo Drogante Inebriante Sordente Sì Ma tu pensa I tre ramussolini Che sono Anche se pochi lo sanno Insomma Soprattutto tra i giovani Sono andati dal potere Democraticamente Sull'onda Di un consenso Gigantesco Quindi la gente È così È vero che Come dice Mussolini La folla è una puttana E va col maschio Che vince Però E quindi poi Si inferocisce Poi prima esalta Poi condanna Poi non ha Insomma Già Però Certe volte Questi personaggi Sia pure Inquietanti Come Lo era Lo era Hitler Mussolini Molto meno All'inizio Rischiano Rischiano Di avere Un consenso Però siccome la storia Si ripete Basterebbe leggere La storia Vuoi arrivare a Renzi Vabbè Ho capito No 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 Sapevo dove andavi a parare E Renzi Ha detto lui Il 41% Ho capito Uno è il 41% Basta vedere la famosa foto Della sera Delle elezioni Ho detto Quante volte Hai giocato con le freccette Contro tutti Quelli tutti Lui Sadicamente Non ci andò A farsi la fotografia E Pensò di avere Il taglio in mano Fece una legge Dicendo Faccio una legge Che era Sostanzialmente Per premiare Il partito principale Quindi con questa legge Conquisto la Camera Faccio un senato Delle regioni In cui La maggioranza delle regioni Storicamente È di centrosinistra E faccio l'assomiglia Tutto E gli è andata male E ha avuto Perché lui ha avuto Un Ma sai Io queste cose Le ho dette prima Perché Nel libro ricordo Un incontro di 4 anni fa A Palazzo Vecchio E io gli disse Ma tu sei arrogante E lui disse Sì è vero Stavo cercando di correggermi E E l'ho scritto E E io ho detto Sta attento Ma 4 anni fa Perché se cadi Quando ti rialzi Trovi solo La Boschia e Lotti Io non ricordare 4 anni dopo Forse No no Io ricordare 4 anni dopo Mi ha detto Che esagerato Hai visto che sono stati Molti di più Quelli che ho trovato Quando Quando sono risalito E in effetti Alcuni dei suoi avversari Dimenticano Che bene o male Renzi ha fatto le primarie Dove è andato a votare 1 milione 800 mila persone Non 2 milioni Che dice lui Ma 1 e 8 sì E le ha vinte E con una maggioranza schiacciante Queste cose vanno Vanno rispettate Insomma Anche se a Renzi Non ti piace Nella storia C'è stato un potente Che non è caduto In questo errore O c'è caduto meno Insomma Che tutto sommato È stato capace Probabilmente Mi viene in mente Stalin Mi viene in mente Stalin Ma Stalin ha fatto Degli errori Cioè voglio dire Stalin Ha soffocato Nel sangue I propri errori Ecco Carnefice Poi lui Si è fatto una certa pubblicità Sterminando gli ebrei 6 milioni almeno Qualcuno dice 5 Probabilmente un po' più di 6 Ma per il resto È a terzo posto Dopo Stalin Dopo Mao Quindi invece Mao è stato un mito Stalin il piccolo padre Togliatti in lacrime Questa è stata Dalla sua straordinaria Abilità Di farsi Di farsi amare Anche avendo Perché lui ha vinto la guerra E quindi questo Gli ha consentito Di Approfittare Della debolezza Di Roosevelt Per Del cinismo Di Churchill Bellissimo Che è l'incontro In cui Churchill E Stalin Pigliano Churchill piglia un lapis E divide l'Europa E Stalin Ci mette un visto Sopra E Churchill Fa finta di vergognarsi Dice Ma lo possiamo Lo sappiamo No no Lo tenga Lo tenga E si partono E poi così Roosevelt Che è stato Sicuramente Un grande presidente Meno grande Secondo me Di come viene Descritto Fu molto debole Perché consentì A A Stalin Di andare troppo avanti L'aveva sottovalutato Perché Churchill L'aveva capito L'alternativa Diciamo A chi è arrivato Alla leadership Per non cadere In questi errori È quella Di finire Per essere debole Ed è un'alternativa Che finisce Per essere Quasi peggiore Ma per esempio Un personaggio Rispetto a questi Minore Franco Fio di buona donna Di altissima levatura E ha notato Sott'acqua Non si è fatto coinvolgere Nel secondo conflitto mondiale Ed è morto Non solo nel suo letto Ma creando le premesse Per una successione Tranquilla Progressivamente democratica E soprattutto Cosa che mi ha stupito E mi ha fatto anche un po' invidia Durante la dittatura Già preparava Le giovani generazioni Siamo nella fase alta Siamo nella fase alta del ciclo Secondo te Cosa è successo Che ci porta di nuovo Ma perché c'è maggiore C'è maggiore incertezza Quando c'è l'incertezza Ti rifugge L'uomo forte Questo è successo In Germania Quando la debolezza Della Repubblica di Weimar Mi ricordo che Uno dei governi di Weimar Cadde tipo Per un emendamento Su una direzionale Cioè una roba Nell'altro mondo Cioè gli stava scoppiando Il mondo intorno E questi stavano litigando Su una cosa Da primissima Repubblica Di quelle robette Quindi una cecità Una cecità assoluta Ma adesso Era guerra civile Cioè In Italia C'è stato il bienio rosso Che ha favorito E c'erano state L'occupazione delle fabbriche Eccetera Però non si è arrivati Come in Germania Ad eserciti Contrapposti Dei comunisti Contro i nazisti E la gente Si è rifugiata La borghesia E non solo Si è rifugiata Nel nazismo E Trump Partando Quando la crisi Ha impoverito Una in Italia La classe media Non c'è più Voglio dire Però in Italia Siamo saggi E quindi ancora I 5 stelle Scusate Di chi sono figli 5 stelle Sono figli E della sfiducia Nella classe politica Ma lo stesso Trump C'è stata Tutta un'area Dell'America profonda Che è profondamente Impoverita Dalla crisi Mentre Obama Mangiava i broccoletti Al vapore Io avevo sottovalutato All'inizio Dico Uno che mangia i broccoletti Al vapore E difficilmente Venta Presidente Gli Stati Uniti Però Il primo Presidente Anticolore Adesso stanno recando Le ferite Il peggiore In politica estera Il peggiore Ha creato dei danni Obama E la signora Clinton E la signora Clinton La Libia La dobbiamo Sare così E in parte anche a lei Insomma Dai Senti Secondo te La maggioranza degli italiani Che hanno votato 5 Stelle Se avessero potuto votare In America Avrebbero votato Trump 5 Stelle Io lo vedo Come un momento Molto trasversale Ma con una connotazione Di destra Dopo il voto di Ostia Dovrei dire il contrario Ma con una connotazione Di destra Piuttosto pronunciata Secondo me In buona parte Avrebbero votato Cosa Come si chiama Di Maio Dice che la politica fiscale di Trump È quella che gli piace Non gli piace la politica ambientale Ma gli piace la politica fiscale Io Condivido pienamente Il tuo giudizio Su Obama E sulla signora Clinton Però Continua a domandarmi Se Trump Sia la risposta Probabilmente no Nella nostra ottica no Anche se Gentiloni Mi ha detto Che Trump È molto più attento È molto più avveduto Di quanto non sembra Ecco C'è un Trump pubblico E un Trump Eh Quello privato Viene descritto Come un personaggio Altro che solo Lui Con un enorme schermo Da solo Nello studio Non so quale Un quello Ugale Un quartierino Un tinello Non lo so Dove ce l'ha Con un grande televisore Il telecomando Il telecomando E il tweet E il tweet E il tweet E questa cosa Quando la saputo Renzi È venuto all'attacco di B Un dilettante Il fatto di tweet Un dilettante Un dilettante Un dilettante Ma questi qua Io considero Putin Il più bravo di tutti Sottoscrivo Nello stesso tempo Il più pericoloso Di tutti E insomma Questa è una bella storia Forse perché è proprio Il più bravo E anche il più pericoloso Spero che qualcuno Dei miei 25 lettori Si legga il capitolo Su Putin Che è un capitolo Che è un capitolo Che secondo me Non è il capitolo La storia di Putin È fantastica Insomma Cioè Scelto Dacci un estrattino Bignamino Scelto come Dagli oligarchi Jelzin era indebolito E gli oligarchi Io riporto una conversazione Tra due oligarchi E uno dice Ma Proprio a Putin Ma chi E quelli Che è bene Ma lascia perdere Questa è un'altra cosa Lui non è interessato Al denaro È interessato Al potere Ma è l'unico Che può mettere ordine E in effetti Poi lui Quelli Io non sapevo Tu sei un giornalista economico Quindi queste cose Forse le sai Io non sapevo Come si fossero arricchiti Gli oligarchi Gli oligarchi A un certo punto Jelzin In un momento Di sovrana democrazia Poche c'hanno tutto in Svizzera Questo è sicuro Distribuì A tutto il popolo russo Sopra Non mi ricordo Sei sei mesi Tranne i paragoli Distribuì Un'azione Dell'azienda petrolifera L'azienda del gas L'azienda eccetera Detta a tutti Tutta la popolazione Questi qua Quando Cercano di capire Capirono Che ci potevano comprare Una bottiglia di vodka Più o meno Insomma Un'azione Che ci facevano Arrivarono Un paio di oligarchi E gli offrirono Diciamo Carrer L'ha raccontato bene Nel suo libro Limonov Gli offri Metti una bottiglia A mezzo Raccolsero Tutte le azioni E diventarono I proprietari A quattro soldi Di tutte le grandi Aziende E molti diventavano Però molto pericolosi Perché cominciavano ad avere Eserciti privati Eccetera E Yeltsin Li ha fatti secchi Tutti quanti Uno dopo l'altro Proprio In maniera Qualche volta Un po' brusca Qualche volta Gli ha convinti Ad andarsene Qualcuno È morto all'estero Diciamo così Non sappiamo Se di morte naturale O no Tu ce lo vedi Putin In grado Di influenzare Le elezioni Degli altri paesi Come è stato Questa cosa Mi pare veramente Straordinaria La Nato O se finanziatore Di qualche movimento Qua e lato Questo sì Questo sì Questo sì Ricordiamoci che Gli americani e russi Hanno finanziato Strafinanziato L'Italia Insomma Questo storicamente Storicamente Secondo te c'è ancora Qualche Rubinetto aperto Questo è possibile Però bisogna riconoscere Che L'Occidente ha sbagliato Con Putin Io sono sempre Dell'idea Che quando vinci Non devi stravincere Non devi umiliare Lo sconfitto Ma come gli è venuto In mente Di mettere i missili In Polonia Di pigliarsi Io capisco Che l'Estonia La Lettonia La Lituania Non vedevano l'ora Perché Perché Stalin Se ne era presa E così Come la grande manuna Di un cartone animato Che si piglia Il frugoletto E quindi avevano voglia Ma come ti vieni Di farci La Nato I missili Lì dentro In casa Di Putin In quella Che è stata A casa di Putin Non era meglio Fare una fascia Diciamo Di apparente neutralità Filo occidentale Ma senza esagerare E quello Poi Quello poi Si è ripresa Si è ripresa Ed è sicuramente L'uomo più potente Del mondo Insieme al cinese Stavo per domandarti questo Dopo il congresso Del partito comunista Di qualche Il nuovo Mao Il nuovo Mao Xi Jinping Si Xi Jinping È veramente Un uomo Tra l'altro Molto simpatico Mi dicono Questa faccia aperta Questa faccia Ma è riuscito Lui a A prendersi A costruirsi Il potere Lui è figlio Della cosiddetta Aristocrazia rossa Perché Il padre Partecipò Alla lunga marcia E poi però Con la rivoluzione Culturale Questi furono In disgrazio Il padre fu arrestato Lui Che era uno studente Modello Fu mandato A rieducarsi Fare lavori Molto faticosi E poi però Nel partito Ha fatto Ha fatto Carriera Pezzo dopo pezzo Lui era sposato Con una Non so se definirla Solo su Brett Pure lui No no Ma una Una importantissima Tant'è vero Che per molti anni Lui era il marito di Era quella che faceva La notte di Capodanno Alla televisione russa Quindi una star Rammetti Raffaella Carrara Una roba di questo genere Insomma E poi invece Quando lui ha preso potere Lei è diventata La moglie La moglie La moglie Ma Lui è un uomo Di straordinaria preparazione Di straordinario cinismo Ed è riuscito E questo è veramente incredibile A smontare Tutto il progetto Di Deng Xiaoping Deng Xiaoping Aveva costruito La nomenclatura cinese In modo che non nascesse mai Un nuovo Mao E lui L'ha buggerato Perché lui è il nuovo Mao A meno che non facciano un golpe Non facciano qualche cosa Ma insomma Lui è effettivamente Il nuovo Mao E se dato degli obiettivi Io credo che poi Lui diventerà più potente Di Putin E neanche una persona Con la destra sulle spalle Perché credo che Sulla Corea Del nord Sia comportando anche Con buon senso Parliamoci chiaro La Cina Non può accettare Una unificazione Un golpe americano In Corea Che faccia Una Corea Sotto l'influenza americana Perché ce ne avrebbe Praticamente Ma come fermiamo il pazzo A Zagarolo Voglio dire Il pazzo come si ferma Beh insomma Io credo che si Che si fermi Beh Tratta che pazzo Un pochino pure lui Un po' meno Perché Vero male Perché c'è il bottone Un minimo di articolazione Mentre quell'alfa Così è andata Se gli scappa Purtroppo E' pure ciccione Quando dice Mi piacerebbe Mangiare un hamburger Con quello là Secondo me Non era una battuta Secondo me Lui la voglia Di andare lì Ma che cavolo vuoi E quello gli dice Essere riconosciuto Io sono una potenza nucleare Mi devi trattare Con una potenza nucleare Il problema è che Nessuno gli riconosce E qua entriamo Per un discorso scivoloso Chi stabilisce che cosa? Esatto Chi stabilisce chi? Io sono democratico Tu non sei democratico Quindi io posso avere La bomba atomica E tu la puoi avere Israele la può avere Ma tu no E' dura Spiegare a un signore Di quel genere Che lui no Insomma Quella la rabbia poi Senti parliamo un momento Di una delle poche donne Leader La Merkel Brutto tempo Nel libro La decadenza Infatti il libro È dedicato Alla decadenza Da Merkel Io ho avuto Non ho mai avuto Una grande simpatia Devo dire Per la Merkel Pur ammirandone Non ce l'aveva neanche Emud Kohl Che pure era Suo padre politico Io mi ricordo sempre Che la sera In cui cadde il muro Di Berlino Lei Giovane comunista Molto più impegnato Di quanto non abbia Voluto far credere Non è andata a festeggiare Ha detto Era il mio giorno Di sauna E sono andato Sono andata Con una mimica A fare la sauna Ora Ti sta scoppiando Veramente La rivoluzione Ma la curiosità Di andare a vedere Che succede No Lei prudente Vuole vedere Come andava a finire E poi è andata E non gli ha fatto Neanche tanto La sua carriera Devo dire Devo dire però È di gran lunga La più preparata I diplomatici Raccontano Che lei Un sedere di pietra Mentre tutti gli altri A parte che lei Sta al potere A 12 anni Insomma voglio dire Mica pochi Ma le trattative È l'unica Che si guarda Mentre gli altri Cominciano a parlare Di seghe di nuvole I grandi Politica internazionale E roba di questo genere Lei vada Vola a basso E guarda anche Le virgole L'ultimo degli allegati La più nascosta Delle note E con la matita Segna questo sì Questo no È tanto di cappello Adesso voglio vedere Adesso rischia di Rischia di finire male Quella storia Senti Fatto cento La Thatcher La May Quanto è? La May? Ma di che stiamo parlando? Ma ragazzi È una delle tante tragedie Che sono capitate Sulle spalle degli inglesi Da quella maledetta Notte In cui Io sono andato a dormire Dicendo che il giorno dopo Avrei dovuto vendere le azioni Che avrebbero fatto il massimo E il giorno dopo Mi sono pianto addosso Come parecchie Centinaia di milioni di persone Perché i mercati Erano crollati È una follia Di cui si stanno pendendo Blair sta tentando Di fare i movimenti Per tornare indietro Ma insomma Poi Senti come hai visto Abbiamo trascorso Quasi tutto il tempo Parlando prevalentemente Salvo tu che hai parlato di Renzi Ma l'hai detto tu Non dell'Italia Però Dobbiamo ovviamente Dedicare un paio di minuti Almeno all'Italia Io di leader da mettere nel libro Francamente Di quelli presenti Poi se vogliamo parlare Tu sei stato troppo generoso A mettere le 12 Ma insomma C'è anche Di Maio Tutta sta gente Ho messo Di Maio Come controfigura di Grillo Ma anche pure Grillo E ho capito Tesoro mio Ma sicuramente Quello che passa al convento E quello che passa al convento E quello è diventato Il primo partito italiano Non è che colpa mia No no certo Questo è poco ma sicuro Forse un po' Colpa degli altri Questo è colpa degli altri Non lo so ma insomma Insomma però Tu hai parlato di Craxi Berlinguer Di Moro Di Fanfani Di Andreotti Di De Gasperi Capisci che Poi parlare Ho capito Scendendo Ho capito Tesoro mio Che succede secondo te Il 4 marzo Se sarà il 4 marzo Non lo so Francamente non lo so Non capisco perché Renzi abbia voluto Una legge elettorale Che lo danneggia Anche Berlusconi Tutto sommato Alla fine Berlusconi voleva Lui l'ha detto Io preferivo Il proporzionale Tanti voti Tanti seggi Mio retropensiero Preferiva il proporzionale Con il quale Mai sarebbe andato Da solo al governo Perché vuole fare L'accordo Con Renzi E Renzi Da per scontato Di fare l'accordo Con Berlusconi E questo lo so Voglio dire Condizione Diciamo Diretta Questa legge Rende perfino Più complicato Questo Perché Se veramente D'Alema Bersani E gli altri Giocano a far perdere Renzi E hanno Discrete possibilità Di riuscirci E il centrodestra Sulla buona strada Che come coalizione Sai poi Voglio dire Ci mancano Quattro mesi Non so Facciamo conto Che si trotti Domani mattina Domani mattina Il centrodestra Biglierebbe sicuramente La maggioranza relativa Relativa però Relativa Però devi vedere Il gioco dei collegi E sul gioco dei collegi Non puoi fare Una previsione Con l'uniforma Di collegi Rischia di avvicinarsi Molto al 40% Senti Due anni fa Scrivevi Maria Elena Bosch Che è di gran lunga La donna più potente Dell'intera storia italiana Due anni dopo Forse le cose Sono andate diversamente Beh di donne Non mi pare Di averne viste Tanti altri No però lei Tanto potente Non mi sembra più O lo è lo stesso Io A posto tuo Farei un giro Di telefonate Con il Consiglio dei Ministri È sicuramente Una donna Molto più nascosta Molto più Prudente Ma pesa 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 Sicuramente Meno di prima Però pesa Pesa Sai Il sospitare Presidenza del Consiglio Ragazzi era Gianni Letta Certo Sì sì Non c'è dubbio Senti ma Che effetto ti fa L'idea che oggi Il non carisma Di Gentiloni Sia un valore Politicamente importante Persino Ma guarda il Corriere della Sera Mi ha fatto il regalo Di dedicare Una intera pagina All'anticipazione Di Gentiloni Perché è uno che non dà Interviste abitualmente E io comincio dicendo Quando gli ho chiesto L'appuntamento Non gli ho detto Qual era il titolo Del libro Perché se no Si sarebbe spaventato Ecco poi Lui dice Solo al comando Chi? Io Io Hai capito E infatti La domanda Io non sono né solo Né comando Ma tu comandi Ma hai detto Beh in Italia È presente il Consiglio Non comando È presente il Consiglio Indirizzo Naturalmente Poi firma Decide certe cose Eccetera Però abbiamo Un sistema Nel quale Il previo ministro Mi ha detto Qui non siamo Né a Darwin Street Né all'Eliseo Né tantomeno Alla Casa Bianca E secondo me Nemmeno alla Cancelleria Di Berlino Senti Prima con Claudio Martelli Abbiamo parlato Del ruolo che ha avuto Totorina E del significato La sua morte La rifaresti Con l'intervista Al figlio Profissionalmente Sì E oggi Cosa gli chiederesti Cose diverse Da quelle che gli hai chiesto Dopo la morte Non ho bisogno Di aggiungere niente Perché quello È l'autoritratto Della rede Vero Di L'Origlia Mi dispiace Che sia successo Questo casino Secondo me È un pochino Per Invidia Nel confronto Dei tu Insomma Infatti nessun giornalista Mi ha attaccato Perché l'avrebbero fatta tutti E E lì Venne fuori L'enorme potere Di Riina Io non sapevo Che questo I figli Nati tutti In clinica privata Con lui Che li andava a trovare Regolarmente Da latitante Le vacanze Fatte sotto L'ombrellone Da latitante Allora invece Di attaccare Vespa Dovano dire Chi era al potere In quegli anni Chi ha consentito A Totorina Di prendere il sole Da latitante Con moglie e figlie E di pranzare Tutti i giorni Con moglie e figli Chi? Con i figli Che andavano a scuola Con i compagni Che dopo i primi tentativi Non gli dicevano più Che lavoro Fatto padre Cioè è stata Una gigantesca complicità Questo è il vero punto Altro che l'intervista Di Vespa E lì è venuto fuori Tutto questo Questo spaccato Di una famiglia Mafiosissima E di un giovane Mutate le condizioni Generazionali Pronto a prendere Il posto del padre Secondo me Io rimasi molto Molto turbato Con l'intervista Ma per il mestiere Che faccio Io avrei anche il dovere Di far vedere Le cose che la gente Non sa Hai perfettamente ragione L'ho detto in quei giorni Lo ripeto anche adesso Senti ma Una curiosità I tuoi libri Hanno grande successo Ogni volta che escono Nonostante che Molti talk Siano defunti E che ci sia Una forte riduzione In generale Del pubblico Che riguarda Porta a porta È sempre viva E lotta insieme a noi Così diciamo una volta A gennaio farà 22 anni Porta a porta E mica Mica niente Com'è che riesci a gestire Le avversioni Che Che il tuo successo Crea Ci penso Il padre eterno Hai capito Io sono Finora Fortemente Raccomandato Quando lui si scoccia Ce ne faremo Una ragione Grazie a Bruno Vespa Di essere stato con noi Leggete il suo libro Arrivederci Grazie Ci vediamo La settimana prossima Grazie a tutti